Sicuramente non è la giornata che ci aspettavamo oggi, la prima regata è stata una regata bella, combattuta, siamo partiti bene, è stata in vantaggio per gran parte della regata, purtroppo poi è calato il vento e per assurdo quando sei davanti sei nella posizione peggiore perché la barca dietro arriva con vento, siamo caduti dai foil, una manovra e niente, questa è la vela, questo è lo sport e c'è poco da fare, nella seconda regata eravamo testa a testa, sono stati tanti incroci, tanti sorpassi, eravamo nella seconda poppa e abbiamo avuto un danno di una parte del sistema del controllo della randa che ci ha impedito di finire e di terminare la regata, quindi adesso stiamo facendo tutte le varie valutazioni del danno per essere pronti domani a regattare sulla linea di partenza, non è cambiato niente, purtroppo questo è lo sport, le barche sono altamente sollecitate, sono tirate al limite come fattore di sicurezza e purtroppo può succedere un incidente del genere, il morale è comunque alto perché siamo veloci e stiamo regattando bene finalmente e quindi domani andiamo in acqua per portare a casa al punto.